Carissimi fratelli e sorelle, carissimi Antonino e Maria Elenia, questo pomeriggio ci troviamo nella casa di Maria, nostra madre, che è in questo santuario, per elevare a Dio la nostra preghiera di ringraziamento per il dono del salamento del matrimonio, che in questa celebrazione celebrate per formare una nuova famiglia. Carissimi fratelli, alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto mio, la, la, non esiste più, Io vedo il cielo sopra nel cielo, che te e te nel cielo... Don't stop me now Don't stop me now Cause I'm having a good time, having a good time I'm a rocket ship on my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a sex machine Ready to reload Like an atom bomb A battle war Oh 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 Explore Don't stop me Don't stop me, don't stop me Don't stop me, don't stop me Don't wanna stop at all Ha-da-da, ha-da-da, ha-da-da